Ciao a tutti da Parafranze e benvenuti in questo video Oggi abbiamo qua un pacchettino E andiamo ad aprirlo Sarà un Cinesone Unboxing molto probabilmente Allora, è qualcosa di grosso Quindi cerchiamo di non rovinarlo Dov'è che si è anche qua? Tengo girato così Non scoprite dove abito Ehm, cos'è qua? Per la miseria Un coltello che arriva dalla NASA Cos'è che è materiale spaziale Perché? Vorrei non ci sia dentro qualcosa di strano Grazie, non vorrei avere problemi di legge Benissimo, vabbè Ci troviamo con un coltellino in questa carta sbarlucicante Carta stagnola E Rowan Interessante Beh, davvero un pacchettino molto accurato USA Palesemente impossibile Non sarà mai USA 514 55 Che sarà un codice che probabilmente per tutti i coltellini è uguale Ma pazienza Impugnatura molto comoda Abbiamo qua soprattutto Molto bella la custodia in ABS Devo dire molto carino Vediamo se fa fatica ad entrare oppure no Devo dire che è anche ben salda Ragazzi, molto bello Mi piace Finalmente non me lo spacciano come coltello da collo E poi mi arriva un portachiavi Insomma, come questo qua Vabbè, questo qua non era indicato come coltello da collo Ma le dimensioni sono quelli Molto carino, sinceramente Neanche pesantissimo Non troppo leggero Qua abbiamo i fori per il paracord Per fare la collanina Molto, molto bello La lama sembra decente Non vedo grossi segni Non vedo rotture Diciamo che dopo il super pacchettino che mi hanno fatto Che non so più dove è finito Vuol dire molto bello Ve lo faccio vedere È grosso così Andiamo a vedere quanto costa E come si chiama su Aliexpress Allora, su Aliexpress Questo coltellino costa 3,81 euro Se lo comprerete da smartphone Mentre se lo prenderete tramite computer Costerà 4,54 euro Quindi non è un prezzo altissimo Non siamo nella fascia degli 1-2 euro Però devo dire che ne vale la pena Almeno come primo impatto Devo dire che ne vale la pena Questo coltellino è venduto in quattro colori diversi Nero, verde, scoria e radioattiva di Chernobyl Io lo chiamerai così E un arancione acceso Molto carino Mentre un rosa fenicottero Come questo post-it praticamente Benissimo Questo coltellino si chiama Piccolo lama fissa Lama diretta Portable Hunt La formichina che c'è qua Di sopravvivenza all'aperto Caccia di campeggio Strumento tasca Collo Carambit Che non so cosa sia Sono ignorante Lo ammetto Coltello 4 colori Come vi avevo Già anticipato Benissimo Per questo coltello è tutto Vi ricordo di iscrivervi Al mio canale Lasciare un like E un commento Per dirmi cosa ne pensate Di questo coltellino Che sinceramente A prima vista A me è piaciuto molto Non so a voi Di seguirmi Di seguirmi sulla mia pagina Facebook E di Instagram Grazie E ci vediamo Alla prossima